A circa 8 mesi dall'uscita del gioco base, la corsa di The Evil Within giunge al termine. Il nuovo lavoro di Mikami ci ha appassionato grazie ad uno stile di gioco che si avvicinava ai survival horror di un tempo, specie quelli in cui si cerca di combinare qualcosa di buono anche quando si è inseguiti da nemici letali e si hanno pochissimi colpi in campo. Dopo l'avventura di Sebastian Castellanos e il doppio DLC dedicato a Julie Kidman, il terzo e ultimo contenuto scaricabile cambia completamente registro, mettendoci nei panni dello spietato custode, la creatura con la cassaforte al posto della testa che ci ha inseguito e almenato a più riprese nell'avventura principale. La storia narrata dovrebbe far luce su chi sia realmente questo pericolosissimo avversario, ma bisogna ammetterlo, non è nulla di che. Se due precedenti DLC si incrociavano con avvenimenti visti nel gioco base, portando avanti una sottotrama impreziosita anche da cutscene interessanti, nel DLC The Executioner non c'è nulla di tutto questo. Attraverso un unico breve filmato iniziale scoprirete che il custode altri non è che un padre che ha perso sua figlia dentro allo stem e che dovrà affrontare l'orrore per portarla in salvo. Si incarnerà dunque proprio nel temibile custode, intenzionato più che mai a farsi largo verso il suo obiettivo brandendo il suo fedele martellone. La storia sarà dunque portata avanti attraverso i classici file testuali, ma servirà più per raccontarvi quello che vi aspetta piuttosto che approfondire il particolarissimo protagonista. Come potrete immaginare, il gameplay finora conosciuto subisce un grande cambiamento di rotta, passando dallo stealth assoluto di The Assignment e The Consequence, fino ad una sorta di picchiaduro in cui dovrete affrontare i peggiori orrori senza tante strategie. Questa variazione ha portato anche un pesante cambio di prospettiva che dalla terza persona passa in prima, offrendo quello che potremmo definire un FPS all'arma bianca. L'avventura inizierà in una villa che chi ha finito il gioco base avrà già visitato, ma che in ogni caso non potrà che portarvi alla mente il primissimo Resident Evil. Al di là del colpo d'occhio si nasconde un gameplay estremamente lineare che per molti versi divide l'avventura in cinque differenti stage, rappresentati da altre tante zone della casa. In altre parole, per liberare vostra figlia dovrete raggiungere e abbattere un boss preso dal gioco principale per vedere sbloccata davanti a voi la strada verso il successivo cattivone. L'eliminazione dei nemici vi frutterà frammenti di memoria, ossia monete che potrete spendere nel relativo macabro negozio per migliorare le vostre abilità e per comprare ulteriori armi. Queste solitamente vanno sbloccate uccidendo il boss che le brandisce, ma in seguito potrete migliorarle tramite la valuta in game. Oltre agli stage standard poi sono presenti anche alcune sfide extra che potrete ripetere quante volte vorrete e che metteranno in scena anche parti di scenario in cui lanciare i malcapitati nemici. Il suo voler essere un arcade frenetico ed estremamente viscerale, in tutti i sensi, porta però a un rovescio della medaglia non indifferente. Terminare l'avventura la prima volta non richiederà più di un'ora e mezza. La nostra partita infatti ci ha visto triunfare sugli avversari in quel tempo, facendoci morire solo una volta contro l'ultimo boss. Abbiamo affrontato più volte alcune sfide per raccogliere denaro e potenziarci, ma nonostante questo siamo arrivati al capolinea in 90 minuti circa. Per quanto mi riguarda però in quel tempo mi sono divertito parecchio nel vestire i sudici panni del custode, vendicandomi a più riprese contro tutte quelle creature che nel gioco originale mi avevano fatto sudare sette camicie. Inoltre, cosa da non sottovalutare, una volta finito si sono sbloccati dei gustosi extra nella nuova partita più, compreso un boss inedito, una stanza delle sfide veramente tosta e altre chicche che renderanno il gioco meritevole di almeno un secondo giro. La visuale in prima persona mette in evidenza alcune difficoltà del motore grafico, che già non era uno spettacolo nemmeno in origine, ma così sarà davvero difficile non notare una fisica un po' bizzarra, oggetti e muri spogli giustificati solo in parte dall'aspetto decadente e buio della produzione. Anche il doppiaggio è praticamente assente se si esclude un particolare boss che la prima volta ci ha accolto in italiano, mentre al secondo giro ci ha parlato stranamente in giapponese. The Executioner è un prodotto sicuramente migliorabile, ma a conti fatti risulta genuino se lo si guarda con gli occhi di chi ama i giochi arcade. In quest'ottica, una volta finito, sarete spinti a ricominciarlo immediatamente per scoprire gli extra di cui vi ho parlato e per potenziare ulteriormente lo spietato personaggio. Certo bisogna convivere con un gameplay che si rifà al button mashing più frenetico e che richiede un pizzico di strategia aggiunta in alcune boss fight, ma se volete un picchiaduro dalla forte componente splatter per sfogarvi dopo una lunga giornata, mettere una cassaforte in testa e impugnare diverse armi da calare senza pietà sopra i poveri spiritati saprà intrattenervi senza difficoltà.